è stato un bianco risveglio quello degli abitanti delle valli del taro e del ceno la neve preannunciata nei giorni scorsi è arrivata puntuale con precipitazioni anche copiose il primo assaggio nel pomeriggio di ieri sul monte penna dove la dama bianca in breve ha imbiancato tutto il paesaggio poi dalla tarda serata di ieri la pioggia si è tramutata in neve posando sul terreno da un minimo di 8 centimetri nel capoluogo valterese dove è stato annullato il mercato settimanale del lunedì ad un massimo di 25 sui passi gli spartineve sono entrati in azione da subito ripulendo le strade comunali e provinciali il peso della neve accompagnato da forti raffiche di vento ha fatto sì che diversi rami si siano spezzati cadendo sulle carreggiate soprattutto chi si è messo in viaggio molto presto questa mattina ha dovuto prestare la massima attenzione la nevicata che ha interessato il permense a tratti è stata molto intensa con rapidi accumuli in valtaro il comune di tornolo è stato sicuramente quello più colpito con 20 centimetri posati al suolo non pochi disagi su tutto il territorio comunale i cantonieri e la squadra di protezione civile hanno lavorato tutta la notte per rendere accessibili più strade possibili sgomberando la neve e togliendo le piante rovesciate notte di intenso lavoro anche per i vigili del fuoco di borgotaro chiamati ad intervenire in diversi comuni del territorio al passo dei due santi un'auto con a bordo due persone è rimasta bloccata a causa della neve i vigili del fuoco di parma le 5 del mattino sono partiti per raggiungerli e hanno liberato la strada la coppia è potuta ripartire poco dopo le 9 per diverse ore tutte le televisioni sono andate in tilt come accade quando pioggia e neve fanno la loro comparsa ed energia elettrica a singhiozzo o addirittura assente la nevicata di aprile ha interessato anche i comuni della valceno fortunatamente senza grossi problemi di circolazione forte nevicata anche a berceto dove il paese si è risvegliato sotto una spessa coltre sull'autocisa tra parma e berceto la neve è caduta mista a pioggia neve invece tra berceto e la spezia attenzione massima è stata richiesta agli automobilisti visto che dallo scorso 15 aprile è terminato l'obbligo di viaggiare con dotazioni invernali ovvero pneumatici invernali montati e catene a bordo aprile già diverse volte ha riservato nevicate fuori programma come quelle copiose del 1956 e del 1978 neve che purtroppo non è foriera di buone notizie anzi un vero flagello per le coltivazioni per le piante che grazie alle temperature elevate dei giorni scorsi hanno già iniziato a fiorire e che ora si trovano sferzate da temperature rigide in caduta libera e coperte di neve domani temperature ancora rigide con la minima sui 2 gradi e la massima intorno agli 8 gradi e piogge previste per tutto l'arco della giornata